che stanno dando problemi che succede la madonna vedete devi far partire powerpoint eccoci vai lo vedete si ora si bene allora continuando ho visto che ho visto che nesto nella parte finale ha parlato proprio di quello dove parlare io cioè nel senso io approfondisco e cioè l'ipossia e la modulazione di ossigeno on demand parlando proprio del ruolo dell'hif e allora diciamo che un argomento che stiamo affrontando in maniera molto approfondita della scuola di alta formazione che stanno organizzando l'idea scusatemi ma è caduta la telecamera scusatemi la telecamera allora dicevo vedete ora vediamo le slide senza processi va bene dicevo appunto un argomento che abbiamo stiamo approfondendo proprio della scuola d'alta formazione quindi si tratta di una pennellata diciamo concentrata soprattutto su il ruolo dei fattori di trascrizione di porsia che ha accennato proprio che ha accennato Ernesto cioè ciò che accade la situazione di porsia e favorisce lo sviluppo tumorale poi le sei appunto è quello che è stato poi un oggetto importantissimo di studio negli ultimi dieci anni e come diceva giustamente Ernesto cioè riprendendo parlava dei tumori dice forse nel 19 secolo ci avevano visto di più ma io direi nel ventesimo in modo eccellente Warburg ci aveva visto di più quando aveva fatto il famoso effetto Warburg dicendo il tumore sta bene dove c'è poco ossigeno e perché perché quando c'è una situazione di ipossia appunto come è stato dimostrato viene trascritti dei fattori in particolare sono tre hif 1 2 e 3 ma molto studiato è stata soprattutto l'hif 1 vedremo poi oggetto proprio del premio Nobel ultimo dall'altro ma anche l'hif 2 e cioè una proteina che viene espressa quindi viene trascritta in funzione della po2 cellulare guardate bene questo grafico più è bassa la tensione d'ossigeno e ma nel cellulare intracellulare e maggiormente è espressa la trascrizione della proteina vedete che quando questo flesso pensate è intorno al 4 5 per cento della diciamo tensione d'ossigeno cellulare vedremo cosa succede quando si va decisamente sotto dal 5 per cento poi c'è un ipossia moderata fino ad arrivare alla normosia intorno al 7 8 10 per cento e vedete che questa trascrizione è l'hif perché perché vedete è molto particolare la situazione se si va a guardare ovvero quando siamo questa bellissima slide io ho tolto proprio da una radio che trattava questo argomento la cosa bella è che quando c'è questa proteina diciamo hf 1 alfa lei come tal quale questo è molto importante capirlo è una subunità che viene mai visto espressa dalla po2 cioè della concentrazione intracellulare d'ossigeno ma c'è un gemello che si chiama subunità 1 beta questo perché perché tutto l'hif è un eterodimero fatto da due subunità attenzione a livello citoplasmatico la prima quando condizioni di ipossia moderata o normosia viene fortunatamente idrossilata da un enzima la prolidi idrossilasi proprio quella con in volta anche la formazione del connettivo e delle prolina per esempio e lui dalla prolina come aminoacido e vedete in presenza d'ossigeno cosa succede la idrossila fa un'idrossilazione idrossilazione che permette da un fattore pensare insomma voli per l'indau un supplessore tumorale di bloccarla lucchettarla e fare in modo che l'ubiquitin ligasi l'e3 l'ubiquitin ligasi un poli complesso veramente enzimatico della scuola di alta formazione abbiamo anche trattato la lezione precedente ho trattato in maniera dettagliata la porta la degradazione nel proteasoma quindi inattivazione e degradazione dice ma se aumenta la concentrazione che cosa accade ecco il bello se ne aumenta la concentrazione citoplasmatica in condizioni quali di ipossia spinta quindi sotto il 4 per cento di più due intracelulare questo fattore di vita subunità concentrazione trasviga nel nucleo e trova il gemello il gemello vedete che è uno eccolo va scusate perché è sensibilissimo questo qui segnato in marrone è il famoso gemello della subunità letterodimero lo legano si formano insieme si trovano si abbracciano e a livello nucleare vanno a indurre tutta una serie di fattori trascrizionali fra cui spicca proprio guardate io l'ho messo qui per esempio WGF ovvero il gene del fattore di crescita dell'endotelio vascolare e vedremo il peso ciclo di cosa pensate in questa operazione uno dice ma ci vanno tranquillamente in modo semplice e no perché se non ci avessero dei coattivatori che si chiamano proteine cbp 300 e quelle pool 2 che sono presenti nel nucleo che favoriscono questo attacco proprio del di questa subunità questo eterodimero al dna in delle sequenze si chiamano hre hre cioè elementi regolatori preesistenti pensate come per particolare come dice giustamente il nostro dna veramente cioè sono macchine veramente meravigliose finché tutto funziona bene cioè già presente queste sequenze che sono dal recettore recettive nei confronti del diciamo del complesso formato appunto h e hif fattore ipossico e favorite da questo diciamo complesso di proteine sono i coattivatori che pensate anche loro sono bloccati da un'altra idrossilasi l'asparagine idrossilasi qui non l'ho messa perché sennò non abbiamo tempo ma quindi queste idrossilasi che hanno un gioco fondamentale idrossilazione è un diciamo un processo inzimatico regolatorio molto importante eccola qua vedete per tornare un attimo prolidrossilasi vedete chetoglutarato alfa cioè quello del ciclo di trebis notare bene e soprattutto ascorbato quindi vitamina c acido ascorbio non lasciamo la chiamata di tagliarci il loro vitamina mi lasciamolo perdere è di fatto una molecola polifunzionale molto importante quindi vedete anche più ripete quando traslocano il nucleo con i colattivatori riesce ad attivare e ha bisogno di questi fattori una volta è attivato qual è la prima cosa che fa come nel discorso del netto a livello però diciamo biochimico molecolare attenzione dice subito attivo una kinasi cioè un enzima che fosforila e chi va a fosforilare questo enzima colpo di scena proprio la piruvato di idrogenasi cioè quella che alla fine del ciclo glicolitico di utilizzazione di zuccheri mi porta poi avete visto lattato da una parte piruvato dall'altra allora in condizioni anaerobica allattato ma ci deve andare in situazioni di emergenza se no va piruvato acido piruvico piruvato e che succede quel caso lì ecco quando ha piruvato il piruvato poi per entrare ha bisogno di questa trasformazione con l'intervento del coenzima A per diventare poi nel mitocondrio acetilcoenzima A il famoso acido acetico attivato cioè la forma attenzione in cui tutto tutto il metabolismo converge per essere utilizzato nel ciclo di Krebs non ce lo scordiamo passa tutto di lì zuccheri grassi proteine aminoacidi quindi tutto quello che volete diventa acido acetico attivato ma se tu quello fosforili questa enzima chiave vedete che addirittura un enzima che diciamo è trivalente anche questo tu mi impedisci al piruvato di entrare e quello cosa fa? dice io se non entro in che cosa mi trasformo io? Mi trasformo in acido lattico questo è il dramma poi delle basi molecolari dell'effetto Warburg notare bene che addirittura pensate degli oncogeni come MYC sono atti che sono attivati almeno un tumore su due cooperano pensate veramente la valignità anche la preta intenzionale come omicidio cellulare cooperano per poter attivare trascrizionalmente questa kinasi e bloccare la deidrogenasi e allora eccoci la stessa slide da parte dell'innesto in chiave molecolare lo shifter lo shifter che aveva visto sperimentalmente Warburg quasi più di 80 anni fa scusate 90 anni fa nel 31 a 20 cento anni perché erano anni che ci studiava e cioè lo shifter metabolico diceva il tumore sta bene dove c'è poco ossigeno attiva un meccanismo biochimico che il meccanismo che può alla fine il suo allievo Krebs quando ha scoperto il ciclo di Krebs si è potuto poi negli anni delineare ma tutto questo è stato messo nel cassetto non interessava a nessuno non interessava a nessuno questa situazione lo shifter bipolitico che che alla fine altri negli anni finalmente il 90 cavallo il 2000 gente di scienza come poi i famosi premi Nobel che l'hanno vinto ma non solo c'era anche un altro prezzo una scienziata giapponese avrà già visto il ruolo fondamentale della della dell'hif diciamo diciamo dell'ipossia nei tumori attenzione di questa che f è veramente geniale che gli ho parlato dei gemelli hif 1 alta e beta ma c'è anche il fratello l'altro fratello hif 2 sapete cosa fa lui perché voi mi direte cari colleghi dice vabbè non entri non entri nel Krebs cioè non entri diciamo come più rubato ma c'è sempre gli acidi grassi no potete utilizzare quelle per produrre artificiale beta ossidazione no perché il suo fratello l'altro perverso hif 2 cosa fa mi blocca la beta ossidazione ma come anche questa mi blocchi certo che la blocco perché anzi non solo non ti faccio ossidare e demolire ma di tutti favorisco la biosintesi lipidica come dice e non solo ti blocco anche quegli eventuali radicali d'ossigeno specie reattive che potrebbero essere importanti l'apoptosi quindi vedete che gioco perverso fanno i due fratelli del ciclo metabolico il tutto perché allora cosa comporta dice ma scusami quello non si demolisce allora l'energia come la prende la prende demolendo acidi o latti invece ma avrà la disponibilità limitata di glucosio certo ma che accade l'hif cosa fa attiva infatti dei nuovi trasportatori di membrana per fare entrare in una valanga di glucosio una metabolismo glucidico diciamo anaerobico indotto cambiando che sono musando sia trasportatori che gli enzimi della via glicolitica come anche prima il mestre ho visto ha fatto ha fatto anche notare l'esokinasi 2 per esempio il tutto che cosa comporta una valanga di produzione di acido lattico ma voi mi direte ma se produce acido lattico la cellula diventa acida molto acida e infatti lo stesso meccanismo attiva di nuove ponte di trasportatori per buttare fuori di acidi monocalbossilici appunto come l'acido ovviamente lattico e il protonico che ovviamente aumenta la concentrazione notevolmente in livello intercellulare per non bloccare la vita della cellula ma la matrice diventa acida occhio la matrice intorno alla famosa mac diventa molto acida inoltre attiva anche delle anidrati carboni e di membrana per attivare pompe di scambio sodio potassio ma soprattutto bicarbonato per poter ripristinare un ph cellulare diciamo attendibile con la vita eccole qua vedete i giochi tutti indotti dall'hif1 attivato quindi se no altrimenti la cellula veramente sarebbe una sofferenza invece lei cosa fa dice io dentro mi sono ripristinato il mio ph e fuori fuori della vedi la matrice della cellulare diventa acidificata con tutte le conseguenze potete immaginare allora ecco perché quando questi cari signori è stato assegnato il nobel e giorgio terziani mio grande amico giorgio mi ha chiamato come dicevo anche alla scuola mi sono commosso io ma certo mi sono commosso sono anni andiamo a dire queste cose cioè questo è stato veramente un nobel strameritato dato veramente alla scienza pura strameritato io vi dico attendiamo di vedere come lo sfrutteranno guarda caso per anno hanno messo nel cassetto e il destino carnicamente da puniti ci ha mandato il covide dove li possia veramente a livello cuore polmone è veramente grammatica ma lì sono anche altri meccanismi però questa sembra quasi mandata da la punizione dove il nobel per di possia ma ti mando anche la malattia e ti crea di possia in maniera amicina scusate questa considerazione non solo su new inglese questi grazie spazi ha fatto anche una bellissima radio ipossia infiammazione due facce della stessa medaglia ma dice chi è l'altro il famoso uno dei complici il famoso lui ha fatto il kb una citochina cattiva da morire quando ce l'avete preoccupatevi guardate in quante situazioni è veramente con il botta mi domandate a volte vanno chiesto come la blocco vediamo subito uno dei meccanismi tra l'altro è l'assunzione di curcumina fatta un certo dosaggio è comunque a livello preventivo è importante questo fatto ma non è solo quella ma preoccupiamoci di vedere i meccanismi guardate perché perversa se voi potete essere bellissima rassegna le rassegne sono veramente bellissime fatte da esperti e sarebbero da leggere soprattutto queste queste rassegne siamo meccanismi di malattia fatti da esperti nel campo e l'altra si chiama drug therapy terapie farmacologiche che ogni tanto fanno le rassegne bellissima questa la parte sinistra è il meccanismo che vi dicevo prima che ho fatto vedere per la slide dettagliata cioè come l'hif arriva a indurre vedete la parte bassa come dicevo c'è gli elementi regolatori vi ricordate vi parlavo che l'induzione di certi fattori fra cui l'angiogenesi tutto benissimo ma guardate chi va a indurre come trascrizione proprio il nuclear factor kb attenzione cosa è stato scoperto nel citoplasma a occhio questo nuclear factor kb è sempre il lucchettato anche l'altro è fatto a due subunità come questo come l'hif una si chiama p50 e l'altra p65 meno male che hanno un lucchetto una kinasi che li blocca come era poi il lucchetto il famoso boni per l'indau per l'hif lui ha un ik beta che la blocca attenzione però guardate cosa fa l'hif quando siamo in condizioni di si sgancia e blocca diciamo riesce a essere libero di agire lui va a indurre il nuclear factor kb attenzione però lui stesso quando aumenta e si sgancia in condizioni di fossi a sapete cosa fa libera il lucchetto del n nuclear factor kb cioè il lucchetto latina le vk infattori diciamo inibitorio viene slucchettato cioè in parole povere in pratica inibisce l'inibitore cioè la presenza di possia fa in modo che una kinasi che era bloccata vada a inibire l'inibitore occhio è il gioco di inibizione inibitore e così la subunità del nuclear factor kb che siamo a p50 e 65 come la chiamano addirittura pensate p 105 guardate si è sganciata vedete vi segnate in verde entra nel nucleo va anche lei in delle sequenze specifiche che l'aspettano e guardate il gioco perverso sapete chi attiva attiva la trascrizione l'hif quindi pensate l'uno attiva l'altro in condizioni di possia volete il meccanismo e allora non c'è da sorprendersi perché inibitore venga fa una situazione di questo tipo acuso che potrebbe mimare il cobit proprio di fatto cioè un rilascio il clamoroso di citochine è un gioco perverso cuore polmone favorito dall'ipossia cronica unico sia usa sia utile cronica e la formazione di micro trombi che pure favorisce ancora di più ripostia per non parlarvi del gioco delle cellule immunitarie residenti cose lo sto trattando e ho trattato la scorsa lezione proprio nella scuola di alta formazione proprio il 30 di giugno settimana scorsa i colleghi mi hanno servito hanno visto il gioco veramente dettagliato che tutto questo meccanismo fa anche sulle cellule immunitarie innate e adattative allora attenzione ecco perché quando si capiscono le basi metaboliche dell'hif si capisce anche la connessione col cancro questo è importante la comprensione di queste basi metaboliche cancro la possibilità di fornire il fondamento per lo sviluppo di nuovi approcci per il trattamento in grado di murale perché vedete come dice ma l'ipossia è negativa e no dipende c'è l'ipossia funzionale anche eccola guardate sulla sinistra ma certo tra un giano bifronte come lo è anche ho fatto alla scuola di alta formazione ho spiegato questo gioco per esempio relativamente alle cellule immunitarie dipende dal grado di ossia e dal contesto quattro riposo sia diventa veramente veramente importante vedere l'effetto di giano bifonte del pro proliferativo e diciamo supera quello anti proliferativo con tutte le conseguenze quindi non più l'effetto positivo di regolarizzazione che può essere un meccanismo di difesa ma diventa punto proprio valente l'altro e quando diventa guardateci altri banno chiesto ma quante sono queste concentrazioni molto basse all'attività il flesso era sotto i 4,5 qui si sta parlando di sotto l'un per cento e già c'è la condizione di inizio la malignità perché c'è l'attivazione prepotente vedremo fattori di crescita dell'endotelio vascolare quindi angiogenesi ma ancora più bassa lo 0 1 1 per mille pensate si arriva non solo alla trasformazione maligna la progressione maligna in quasi casi irreversibile quindi situazioni molto molto importanti anche apprezzate di angiosi in fausta perché si creano in quelle condizioni molto spesso serviste anche con un meccanismo che riguarda per la me che guarda caso acidificata una resistenza al trattamento tumorale infatti riposo sia una condizione molto diffusa vedete perché come diceva Ernesto come diceva qualcuno sta benissimo Pier Mari a volte parla la capacità di adattarsi riposo sia è proprio essenziale per la crescita tumorale ci sguazzano e la e la acidificazione della mec la matrice è proprio il suo favorisce una vascolarizzazione indotta che non è la vasculogenesi ma è l'angiogenesi neoformata e l'hif è un promotore di tutto questo questo mi ha dimostrato i nostri cari per minove guardatelo vedete la dose di dipendenza si abbassa la più o due a livello critico sotto un per cento e aumenta l'angiogenesi come aumenta parallelamente l'espressione del fattore di crescita all'endosterio vascolare eccolo qua vedete come vanno in parallelo anche proprio nello sviluppo del tumore quindi a questo punto cosa ci rimane questa pennellata la modulazione o un demand dell'ossigeno fortunatamente il mio caro amico giorgio più di dieci anni fa ha fatto fare studi importanti quando mi disse ma lo devo fare che tanti medici biologi mi chiedano lavori ho detto giorgio devi affidare l'università di un certo livello non c'è niente e giorgio cominciò ad affidarsi prima cosa ha detto dice ma vediamo intanto il potere antiossidante giustamente no certo e l'ha visto allora va a urbino certamente dal professor canistrale il suo team e valuta tutto l'ansieme poi il passo successivo attenzione indipendente tenta un milano istituto di patologia e lui disse giorgio guarda che il milano ma cioè tu essere di sapere fai te cioè insomma può essere un salto nel buio essere di mostra e invece non è stata affatto un salto nel buio perché vedete cosa è emesso è emerso una cosa bellissima cioè in pratica agli studi fatti dalla patologia di milano diretti alla professoressa maria erena ferrere ferrero che ha dimostrato veramente uno a parte confermando l'aumento della respirazione respiratoria tra l'altro nelle cellule indoteliali in coltura ma poi guardate certo confermando anche il blocco dei ross certamente ma non solo ha proprio lavorato sull'espressione l'ha e di effe e sulle citochine connesse questo è stato fondamentale un lavoro a questo punto ora viene esaltato dalle ricerche fatte proprio dai primi nove eccolo va il lavoro sul giornale fisiologi e farmacologi un lavoro importantissimo non sto piedi sapete cosa è emerso questo lavoro il ripristino attenzione della via nocella diciamo il reshift verso la via mitocontiale essenziale questa cosa è lì che si gioca veramente la riprogrammazione mi direbbe l'amico per mario in senso metabolico riprogrammazione metabolica eccola queste sono le conclusioni in cui è arrivata la il gruppo di milano molto importanti vedete cioè non solo addirittura anche pensate la pregolation della super osto di smutasi vi ricordo io attenzione manganese dipendente quando si fa donazione vera antiossidante si deve andare a guardare se vengono espressi quelli che sono gli enzimi che sono anche non tanto l'azione di per sé ma l'espressione diciamo alla trascrizione corretta degli enzimi che fanno da barriera la super osto di smutasi la durazione ferocità questi sono gli enzimi che funzionano e questo è veramente stato indotto dal dato sul pazine o c'è il food questa è la verità e non solo anche il ripristino vedete perché l'era il gruppo ha lavorato sulle cellule endoteliali della funzione endoteliale ragazzi endotelio scusate ragazzi il senso veramente buonario sentiamo tutti i giovani pur avendo ma l'aria c'è c'è che i colleghi hanno 30 anni ma io non ho scritto bisogna sentirsi ovviamente sempre dei ventenni o dei ventenni le riprese tra funzione endoteliale l'endotelio il campo di battaglia due sono i campi di battaglia la mec che tratterò la prossima lezione della scuola alta formazione e l'endotelio quando uno c'ha infarto x è tutto partito anni prima dall'endotelio non ce lo scordiamo ma cosa succede giorgio va avanti fa confermare le linee di cellule tumorali leucemiche e tumori solidi indipendenti attenzione indipendenti dal lavoratore d'oncologia di regina Elena di Roma e arrivano alle stesse conclusioni ma non solo guardate guarda la proliferazione cellulare la pottosi quindi con i fattori l'espressione dell'hf anche loro e il metabolismo e la riprogrammazione metabolica in due minuti queste conclusioni sì cinque minuti cinque minuti perfetto ma sto finendo infatti allora guardate e questo è importante il dato sul fazzima riduce in maniera significativa la concentrazione confermando Milano riprogramma perché valla a lavorare sulla deirogenasi riprogramma in senso non più picolitico ma in senso un mitocondriale la respirazione e come lo vedi ma non solo addirittura riduce questo è importante i grutto che erano espressi dalla condizione picolitica anaerobica ecco la riprogrammazione di enzimi di membrana e naturalmente le conseguenze quali sono sull'acido l'attimo e sul pilovato quindi lo shifter che si riporta come la famosa radio su science ha dimostrato si riporta a livello diciamo di respirazione aerobia corretta col mitocondrio e questi sono gli studi che poi sono arrivati a conclusioni sulla diciamo proliferazione fatte da regina erena di rocca che ha confermato anche la poctosi con le caspasi la frammentazione di dna in pratica due laboratori importanti indipendenti arrivano agli stessi risultati pensate in maniera indipendente 3 se ci mettiamo il vino con il discorso dell'antiossidante concludo dicendo anche questa vitamina d ne parlerò poi anche dalla prossima lezione con il discorso antinfiammatorio perché è importante anche se vogliano certamente se viene proposta come tutti ricerà la vitamina d è proposta come antirobite non è in modo giusto di approcciare io me la prendo tutte le sere 3.000 unità e vi posso garantire che è un antinfiammatorio importantissimo ma di questo poi vi lascio le slide avrà approfondito anche il 27 di giugno la vitamina c invece certo perché qui ci sta bene perché chiamiamo la vitamina c ma chiamiamola al suo nome acido ascorbio per non parlare del desalattone cilindro vera molecola funzionale attenzione perché questo è importante perché avete visto era il cofattore essenziale dell'idrossilasi che permetteva la degradazione quando c'era l'eccesso di hif e allora sì certi ruoli immunitario io ve l'ho messo lo tratterò nella scuola tra formazione una slide che ho fatto vedere anche alle lezioni su questo non ci si mette in dubbio sul ruolo di quadruante immunitario ma l'assorbimento è un problema non si assorbe e lì a voglia a prendere un grammo non si assorbe oltre un tot il limite di questi diciamo dei trasportatori è 250 300 mg e non di più allora guardate la biodisponibilità di queste di queste diciamo tipo di formulazioni è molto importante e qual è quella ottimale ve lo dico subito l'intra orale spray la sublinguale ma con le forme colloidali con nano particelle e questo è il grande grande gioco quindi ecco perché questo tipo una formulazione non può essere paragonato alle complesse torno indietro un attimino e concludo con questa non può essere paragonato cioè io ripeto sempre quando la prossima lezione parlerò della vecch perché ne parlo perché quella è un filtro un sostegno un filtro è la barriera il nuovo organo insieme all'endoterio ma se te non hai una biodisponibilità efficace e stiamo a parlare di acqua fresca e quella lo tieni solamente una formulazione fatta e ad hoc di qualsiasi natura siano la vitamina c in questo caso somministrate in modo regolare quattro per esempio volta a giorno spruzzate on demand può veramente come l'ossigeno on demand come il self food on demand può garantire le reali concentrazioni cellulari del principattico e non avere vedete questi flussi questi sbalzi ma avere sempre una concentrazione lo stai di stai tematico che possa permettere proprio un'adeguata diciamo concentrazione plasmatica e di conseguenza cellulare grazie dell'attenzione grazie grazie mille per l'intervento fantastico grazie se non ci sono domande passiamo subito